buona serata a tutti cari amici bene questo benultimo video di oggi parliamo di coppa italia serie di maschile di calcio a semifinale il fasano fa un sol boccone del tolentino vince 4 a 0 grazie ai gol di rizzo diez serri e cavaliere risultato complessivo 5 a 1 considerata il pareggio per 1 a 1 all'andata vittoria dei fasanissi oggi quotata 2 15 2 16 2 25 quindi ribadisco e concludo per questo penultimo video di oggi città di fasano tolentino 4 a 0 il fasano sbarca in finale della coppa italia di lettanti risultato complessivo tra fasano e tolentino 5 a 1 ciao 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 ciao